Super Mario 3D World più Bowser's Fury è il nuovo titolo di Nintendo in arrivo il 12 febbraio su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Riprendendo il titolo originariamente uscito su Nintendo Wii U, Nintendo ha voluto creare anche un capitolo aggiuntivo per questo titolo, chiamato per l'appunto Bowser's Fury. Sulla prima parte di questo titolo sappiamo più o meno già tutto, essendo quindi un porting a tutti gli effetti, ma comunque migliorato in tante meccaniche come la velocità dei personaggi, non c'è da stupirsi se qualcuno potrebbe evitare l'acquisto poiché è già giocato su Wii U, ma la presenza stessa di Bowser's Fury, così come le migliorie stesse che lo rendono molto più veloce ed aggiornato, rendono il titolo appetibile per tutti. Ma ci sono delle informazioni che ancora non sono state rese pubbliche da tutti, ma soltanto da alcuni siti di stampa specializzata, che potrebbero andare a rinforzare la nostra voglia di acquistare questo titolo o sgretolarla totalmente, e andremo a capirlo insieme all'interno di questo video, anche perché se proprio vogliamo dirlo, 60 euro eventualmente per un titolo già giocato, che aggiunge semplicemente un capitolo extra, sono un po' tantini. Ma vabbè, la scelta rimane comunque sempre solo vostra, io nel dubbio vi lascio comunque il link per acquistarlo in descrizione, al prezzo minimo garantito come al solito. Poi fate voi, in caso ci vediamo il 12 febbraio sul mio canale con Bowser's Fury, oppure più avanti con Super Mario 3D World, oppure ancora se non volete aspettare anche stasera alle 17 sul mio Twitch, dato che lo sto giocando tutto quanto al 100%. Sapete no, mi sto preparando per l'uscita perché volevo essere assolutamente pronto per portarvi un gameplay quanto migliore possibile. Iniziando però finalmente con le informazioni su questo titolo, o meglio su Bowser's Fury, partiamo dalla durata. A quanto pare, secondo GamesBeat, la divisione gaming di VultureBeat, Bowser's Fury sembrerebbe durare circa 3 ore totali per arrivare a sconfiggere la parte principale del gioco, mentre altre 3 ore aggiuntive per prendere tutti i solegatti, in totale 100. Da ciò che si può vedere nel trailer, non solo esistono solegatti interi, ma anche frammenti di questi ultimi, di cui però non sappiamo se una volta raccolti otteniamo il pezzo intero, power-up o altro. Non sarebbe comunque una novità perché l'abbiamo visto anche altrove, per esempio in Super Mario Odyssey. La cosa positiva però è che il gioco prende spazio in un mondo gigantesco ed unico, facendolo diventare, di prepotenza, il gioco di Mario con lo spazio più grande di sempre, in cui all'interno troveremo tanti livelli più piccolini, ma a quanto pare senza caricamenti di sorta come in 3D World. Avremo quindi un'unica grande zona. Osservando meglio i trailer e le informazioni raccolte sul web, parrebbe che i livelli siano divisi da piccole isole, trovandosi in mezzo a un grande lago. Ognuna di queste piccole isole ospita uno svariato numero di nemici, oltre che i solegatti, rendendo di per sé l'esplorazione una cosa totalmente fondamentale all'interno di questa espansione. In modo quasi analogo a Super Mario Odyssey, il titolo che abbiamo menzionato prima, parrebbe che questa porzione di gioco, Bowser's Fury, equivalga quasi a una sorta di regno, anche se però non in senso letterale. Immaginati quindi un grande mondo dove tu all'interno, esattamente come in Super Mario Odyssey, ti muovi liberamente, fai delle mini quest, fai dei mini giochi, ottieni i solegatti, ottieni power up, tutto per continuare e quindi procedere per un obiettivo finale. Infatti, come abbiamo visto nel trailer, sappiamo che alcuni di questi possono essere ottenuti attraverso il completamento di mini quest, come completare una corsa ad ostacoli e via dicendo. La cosa più interessante però è che non tutti i solegatti sono disponibili da subito. Avete presente quel Bowser mostrato nel trailer? Quel Bowser gigantesco! Ecco, quel Bowser si sveglia in momenti totalmente casuali, anticipato da una pioggia sempre più violenta e poi a un certo punto, con la sua host, trasforma questo gioco nella variante Eevee Metal di Super Mario. Non consideriamo il fatto che la super campanella va a trasformare Super Mario nella variante Super Saiyan. Quindi puoi prendere un qualsiasi trailer, un qualsiasi pezzo della boss fight, metterci una sigla giapponese di Dragoball e hai fatto. La presenza di Bowser, che possiamo sbloccare anche con gli amiibo di quest'ultimo, renderà possibile l'ottenimento di alcuni soli che altrimenti non possono essere ottenuti in altro modo. Se notate bene nel trailer, la presenza di Bowser va a creare dei blocchi che, se posso azzardare io con un'informazione, sembrerebbero utili all'esplorazione. Quindi non solo la presenza di infastidire Mario e catapultarci in uno status di frenesia, ma anche utili per completare il gioco. Ottimo binomio a mio parere, va a premiare chi aguzza la vista e soprattutto l'ingegno. Molti di voi tra l'altro mi hanno chiesto come avrebbero potuto implementare per esempio il soffio o i comandi touchscreen quando stai usando la console in modalità TV e quindi non hai accesso al tablet. Ecco, a quanto pare per la seconda domanda abbiamo anche già la risposta, attraverso il sistema di puntamento in maniera del tutto simile alla 3D All-Stars Collection. In modo simile a Super Mario Galaxy, usando un determinato tasto, spunta un puntatore che muoveremo con i sensori di movimento. Abbastanza comodo, su Galaxy mi son trovato bene. Spostandoci tra l'altro a tema amiibo, tutti gli amiibo sbloccano power up casuali, mentre quelli di Bowser lo risvegliano di proposito. Quelli di Bowser Junior invece sbloccano un potere che ci aiuterà nel gioco, ma con un cooldown ovviamente. Non può essere spammato. E suppongo anche quello di Bowser, che a quanto pare smetterà di attaccare soltanto se verrà sconfitto da Super Mario col power up mostrato nei trailer, oppure se è esausto. In realtà penso che questa comparsa di mostri giganti sia una reference ai kaiju giapponesi, mostri giganteschi, vedesi Godzilla, mostri che lì in Giappone sono amatissimi, ma anche qui abbastanza. Facendo comunque il punto della situazione, su tutto quello che ho scoperto e che ora quindi sappiamo, sembrerebbe quindi che il feeling alla Super Mario Odyssey fornito ci dal trailer del titolo sia stato un feeling corretto, sensazioni che tra l'altro abbiamo avuto anche dall'animazione mostrata col primo solegato ottenuto nel trailer. La presenza tra l'altro di Bowser Junior, che ci aiuterà all'interno di questa avventura, è molto simile a Cappy, essendo tra l'altro controllabile da un secondo giocatore, ma risulta una versione migliorata, più divertente e soprattutto interattiva. I single player si può addirittura disabilitare, andando quindi a fornire un'esperienza d'uso totalmente migliorata e più matura rispetto a quella di Odyssey. Uniamo tra l'altro la velocità aumentata, sicuramente una grafica più pulita, ed ecco qui il pacchetto completo di Super Mario 3D World più Bowser's Fury. A mio parere, che ero già interessato, un ottimo pacchetto. L'unico dettaglio, a mio parere, sconfortante è la durata. Stiamo parlando di 6 ore totali per fare il 100%, e onestamente mi sembrano un po' pochini, insomma, per dare così tanto spazio all'espansione. 6 ore, il 100%, molte persone neanche lo faranno, facciamo 3 ore giusto per sconfiggere questo capitolo extra. 3 orette, secondo me, sono un po' poche, dai! Ma hey, queste sono informazioni dal web, e quindi quando lo giocherò io, quando farò un video o magari recensione e analisi, e soprattutto un video talk tipo questo che sto facendo oggi, vi potrò dare la mia opinione. Ma piuttosto, passiamo a voi. Voi lo comprerete? L'avete già preordinato attraverso il link che vi lascio in descrizione? Fatemelo sapere con un commento. Qual è la cosa che vi piace di più di questo titolo, delle informazioni che vi ho dato oggi? A me personalmente, probabilmente, il fatto che sia open world, questa cosa di essere un mondo totalmente vasto, totalmente aperto, in cui tu puoi esplorare, fare quello che ti pare, è una cosa che mi piace da morire, soprattutto per questo genere di giochi che vanno un po' a unire il 2D, come per esempio New Super Mario Bros. U Deluxe che abbiamo giocato su Switch, e anche Super Mario Odyssey, che comunque rimane abbastanza aperto, certo, ci sono caricamenti, eccetera, ma il feeling è un po' alla open, puoi fare quello che vuoi. Insomma, tanto da dire, tanto da divertirci, staremo un po' a vedere quando il gioco uscirà. Tutte queste informazioni di oggi le ho raccolte dal web, ho fatto una doverosa selezione, e soprattutto sono stato attento a prendere soltanto fonti affidabili. Ma non essendo ancora uscito il gioco, mi prendo il diritto, eventualmente, di dirvi di non prendere al 100% per sicuro queste informazioni. Alcune le ho confermate semplicemente guardando i trailers, mentre altre, insomma, parliamo di informazioni che non possono essere confermate finché il gioco non esce. Fidiamoci comunque di questo recensore, che comunque sembrerebbe una persona affidabile. Detto questo, grazie della visione, link utili in descrizione, vi aspetto in live stasera a 17, e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada